Ok ragazzi partiamo, ma quanti cavolo siamo? Belli belli messi in fila Allora, Simulation 2, si ci troviamo su Simulation 2 Davanti, mi fa andare avanti questo Voltare a destra Voltare a destra Ok Sì, c'è un piccolo pezzo che ci va passato alla Francia Ciao Cherry, grazie per il follow Cherry, ben arrivato in live Server 2, server 2 Quella ciccio, ben arrivato anche a te in live Eh, stavolta siamo pure tanti, ciccio, stavolta siamo veramente tanti Voltare a destra Addio Sardolf, ci sono stato anche nella realtà più di una volta E pigliare l'aereo ovviamente Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Eh ma Iemma siamo appena partiti, è normale che è tutto tranquillo Matteo, ciao Matteo, ben arrivato in live Voltare a destra Folgore, ciao Folgore, ben arrivato in live anche a te Eh, quanta gente Se no ucci Ciao se no ucci, grazie per il follow Ok, cominciamo Li state chiamando gli incidenti per caso E poi Lo sta attendo che sto tizio qua davanti mi spaventa un po' Ma sai che c'è un altro convoglio al lato opposto Salutiamo, salutiamo Oh mamma, quello si è andato a schiantà All'allocatoria prendere la prima uscita Uscire adesso E' stato un bel viaggio E' stato un bel viaggio E' stato un bel viaggio E' mo' se riparte altro che Lavoro autonoma Speriamo che c'è ancora quel lavoro Eccolo qua Oh, gustoso Ma qual'è? Lai Sì, lo fammo dopo breakfast Va bene Damiano, a dopo, ciao Per ora il giveaway c'è ogni domenica Ovviamente se vedo che Il giveaway lo faccio nella speranza ovviamente di aumentare anche come canale Cerco di attirare un po' di gente nuova Se rende Sì, se no probabilmente meno spesso Vediamo Se la cosa rende Ragà lo porto volentieri tutte le domeniche il giveaway Altrimenti probabilmente Forse un po' meno Ovviamente anche io cerco di guadagnarci qualcosa dal giveaway E il mio guadagno deve essere un somma gente nuova magari Quindi ma la gente dove sta pigliando carichi? Che fa? Se parte? Non se parte? Devo aspettare? Stanno pigliando carichi? Ma a me pare che non stanno a far niente Alla rotatoria prendere la seconda uscita Uscire adesso Oh ma gli altri che fin'hanno fatto Erano 100 milioni gli altri per dire Sono spariti Alla rotatoria No lupetta è andata a riposarsi raga Uscire adesso No Alex Gli scontri ci stanno e come Siamo nel server simulation Oh Gabri Ciao Gabri Grazie mille per il follow Ben arrivato Tenersi a sinistra Ah si va ragazzi a Coln Come Coln Ma io avevo scelto Düsseldorf Raga io avevo scelto Düsseldorf Avevo scelto Düsseldorf E quello era il carico Dove cacchio stiamo andando? Beh stiamo andando sempre in Germania Coln è in Germania Ma dico Ma io avevo selezionato Düsseldorf Non coln Boh Alle volte sto gioco non lo capisco Non ho scelto Düsseldorf Eppure ne ero abbastanza sicuro Porca miseria Allora devo aver sbagliato E vabbè ormai Che vogliamo fa Ormai ho preso questo Vediamo un po' la strada Che dobbiamo fa' Ma io che Io penso che ho scelto Quello giusto Magno un'altra caramella E poi uscire a destra Uscire a destra Cioè bevo pure sopra Va' Intanto che c'è la caramella Ecco perché uno mi diceva Colonia Il viaggio è tranquillo Andare dritto Il viaggio oggi ragazzi Pare essere abbastanza tranquillo Per fortuna E dire che all'inizio Eravamo tantissimi Ho pensato Mamma mia Quanti siamo Mo' è brutta Oh alla fine Sono scomparsi tutti Può essere un altro Convoio quello E' possibile E può essere Può essere che era Un altro Convoio E non lo so Cobra Sinceramente Non c'è scritto Da nessuna parte Come funziona Sto comando Purtroppo la guida Manco c'è E' proprio scarna Io avrei preferito Utilizzare Avrei preferito Utilizzare I punti fedeltà Del bot Stream elements Il problema E' che vai a trasferire I punti Da un bot Ad un altro bot Non si può fare E poi dovrei cambiare Un mucchio di cose E quindi Al momento Sto passaggio Non lo sto a fare Beh Perché Se voglio passare Da streamlabs A stream elements Devo cambiare Tutta l'interfaccia Che vedete Devo cambiare Qualsiasi cosa Quasi tutto Da capo Anche perché A me sto bot Non mi sta piacendo Granché I punti fedeltà Ai donatori Li devo dare manualmente L'altro bot Pare che li da Automaticamente Sinceramente Mi trovo In difficoltà Questo bot E non lo so Ci devo pensare Siamo diretti A coln Coln No Non do il mio numero Mi spiace Continuare Alessio Alessio mi ricordo Di te Oh cacchio Di mosca Andare Mi ricordo Di te D'altrondo Alessio Voglio dire Sei quello che ha donato Più bit No Quindi Sei sempre lì Da me Ti vedo Insomma In chat Quello che ha donato Di più Come faccio A non notarti Simulation 2 Mi trovo su Simulation 2 E comunque Domani Si resetta Alessio Domani Si ricomincia Da capo Domani Si riparte Da capo La classifica Si resetta Ogni settimana La classifica Dei donatori Di bit Guardate La visuale esterna È sempre pericolosa Ah Simon Sto bene Sto bene Quanti chilometri Mancano 340 Tenersi a destra E poi Tenersi a sinistra Come te no Can Altra volta Questa storia La volta è giusto Ok Tenersi a sinistra Qua è dove L'ultima volta Ci sono rimasto fregato Non lo so Pepe Non ne ho la più pallida idea Tenersi a destra Forse si Forse no Dipende anche Dalla mia gola Ronco Ronco Ti sei giocati tutti Domani si pepe Tenersi a destra E poi Voltare a destra Voltare a destra Voltare a destra Voltare a destra Dai ragazzi Mancano 50 punti Fedeltà Su Che cacchio sto a dire Scusate 50 punti vita Mancano allo stream boss Qualcuno piglia il suo posto Dai E nessuno che vuole Piegliare il posto Dallo stream boss Grande cinghialotto Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo dove va questa a schiantarsi Ehi Emma sono più energico su Twitch Questo che fa passa o non passa Uè Gamer ciao va tutto bene Gamer ben arrivato in live Ciao Raffaele ben arrivato anche a te in live Grazie Raffaele che ospiti la live Addirittura commentatore Come dire di qua non ve ne andate Beh male che va commentatore A mali estremi estremi rimedi Male che va si ricomincia da capo Vedremo ah Vedremo come ci troviamo Ci devo sempre pensare comunque TheSingamer Ciao grazie per il follow Ben arrivato La 1 gigabit non c'è qua da me A malapena c'è la 100 E mi accontento Ma basta quella guarda Sono contento Sempre meglio di prima che era una schifezza Il gioco è online anche TheSinger Cioè il gioco di base è solo single player Però c'è una mod che ti permette di giocare in multi Cosa sto trasportando Aspetta che questo mi sa che si è fermato un po' Sto trasporto il pesto Sto trasportando pesto Certo che sono buoni Per PAX 30 mega in upload Sono buoni si Grazie Alessio Anche a te che ospiti la live Ok caso time Va bene Ah Eh vabbè Simo Sempre meglio quello che niente Va bene Pietrik Se passi dalla Germania Che sta andando là Eh il caffè troppo Ma lo vado a fare Che a dire la verità è già il terzo Quando appena mi faccio sto caffè è già il terzo Dalla giornata Nah Ronco Quel gioco lì è un po' moscio Noioso Non mi piace È carino però Ma Eh sì Nico Però non importa Chiunque vince Gli do il codice Anche se non c'è Cioè chiunque vince Gli posso comunque scrivere in privato direi No suppongo Quindi Basta che gli manda il codice E poi se la vede lui Ma commentatore ancora Non so se mi sposto Perché tipo le scommesse Si possono fare anche su stream elements Però tipo Tipo su stream elements C'è scritto Crea Scommessa E avvia Io invece la scommessa La voglio creare E poi la avvio Quando voglio io Non mi vale mica di avviarla Quando dice lui Quando la creo Quindi insomma Alcune cose di stream elements Non mi convincono ancora È per quello che non ci so passato prima No trucchi non ne ho usati Su Mudrunner Scusa Usare il gancio Non è un trucco Il gancio Su Mudrunner Lo devi usare per forza Non c'è scelta Le slot come funzionano E niente Tu giochi e basta Se vinci vinci Se perdi perdi Perché te non puoi fare niente Tu puoi solo dire gioco E basta Ma poi alla fine È tutto casuale Quindi Non c'è molto da capire L'unica cosa che puoi sapere È che le slot pagano molto di più Ma perdi più facilmente Mentre con Gumbler È più facile vincere Ma al massimo raddoppi Oppure raramente triplichi Mentre con le slot Se hai tanto culo Puoi moltiplicare per 10 Il massimo è un moltiplicatore per 10 Wey Alemato Grazie per il follow Vale ben arrivato Ciao Ale Ben arrivato Ale Ragazzi mancano 30 punti vita Allo stream boss Dai che qualcuno di voi Può diventare lo stream boss Basta anche uno che s'abbona E già pure diventa stream boss Che poi se arriva a 80 Le metto un'altra emoticon Quella del caffè Che tra poco Devo pure andare a farmi il caffè Oggi c'è molta tranquillità Ma magari molti sono al mare Poi vabbè È periodo di vacanza Quindi è tutto Diciamo abbastanza normale Secondo me Vediamo Magari verso settembre Qualcosina La si comincerà a vedere meglio Che poi la gente Comincerà a tornare Dalle vacanze E quindi Sì Sicuramente Mese prossimo Probabilmente si vedrà più gente Magari Vediamo Camminiamo Ragazzi Che state a fare Quello che è andato così piano Ah Sei al lavoro Simo Ciao Moreno Ben arrivato in live Buon pomeriggio More Grazie Che mi ha ospita la live Anche Moreno No ma Lupetta Non c'è Moreno È andato a riposarsi Comunque Io in vacanza Mai fatte in vita mia Le vacanze A parte quelle della scuola Io al massimo Giovedì prossimo Dovrei andare al mare Giovedì prossimo Vado al mare E poi forse che Può essere che non ci vado più Non lo so Cioè Teoricamente Ci devo andare ancora Almeno un'altra volta Se va bene Forse un'altra volta ancora Ma poi basta E comunque al mare Finora ci sono andato Tre volte Giovedì prossimo Fa quattro Se va bene Cinque Se no quattro Commentatore Ho guardato Un bel po' di tutorial Per quanto riguarda Le mod di minecraft Tanti tutorial E poi ovviamente Pian piano A tentativi Eh ma Nico Vacanza Non è proprio così Cioè Anche se stai vicino al mare Non vuol dire Che stai in vacanza È come dire Che il bagnino Perché sta in spiaggia È in vacanza No il bagnino Sta lavorando Non è in vacanza Perché vado così poco al mare Perché andare al mare Costa Raga Costa 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 Andare al mare Voltare a sinistra Voltare a sinistra Le spiagge libere Sì ci stanno Sì No no io vado Dove si paga Sì ci stanno le spiagge libere Ma io vado dove si paga Vabbè Non è che costa tanto Sono 20 euro 20-25 euro Però Ma perché La spiaggia è pulita C'è il servizio E poi No quelle non le ho mai viste Nico qua Eeeh Spiaggia pulita Il servizio Il lettino L'ombrellone Insomma Per quello In spiaggia libera Invece c'è un mucchio Di sporcizia Spiaggia libera Non mi piace Uno rischia Di farsi male Eccoci arrivati Sani e salvi Oh eeeh Snobby Grazie per il follo Snobby Ben arrivato in live Quali comandi Scusa The thing Se parli del comando Punti Non lo potete usare Troppo spesso E anche il gambler Quello lo potete usare Ogni tre minuti Altrimenti qua Mi spammate La chat di comandi Di fatti Non è che sono molto contento Di vedere sempre Tutti sti comandi Perché Ok E' tutto figo Ma tutti sti comandi Fanno impazzì Parcheggio Simultaneo Eccellente Montgomery Barnes Dice che il viaggio È stato ottimo Dice che il viaggio